Allora, alimentazione biologica. Siamo da Feelgood, un nome che promette veramente bene. Presentiamo allora Feelgood. Noi commercializziamo e produciamo prodotti a basso contenuto di corboidrati che escludono praticamente il 90% degli allergeni. Stiamo creando prodotti che vadano bene per tutti, quindi vanno bene per sia un'alimentazione low carb, un'alimentazione paleo o un'alimentazione vegan. Abbiamo farine alternative che sono di mandorle, di semi, di noci, di cocco, tutto praticamente senza cereali. Sono farine disoleate, quindi dove è stato estratto l'olio, quindi hanno la metà delle calorie e hanno un bassissimo contenuto di carboidrati. Cosa presentate in Fiera Padova? Presentiamo il nostro nuovo mix per pane, che è praticamente un mix di farine, farine di semi di lino, farina di sesamo, farina di semi di chia. Un mix ideato proprio per tutti, quindi come ho detto prima, sia per un'alimentazione vegan, low carb e paleo, quindi non contiene cereali, non contiene glutine né soia, niente latticini, niente uova. Quindi ecco, un prodotto adatto a tutti e un prodotto senza lievito, quindi contiene solo bicarbonato. Se dovesse parlare dei punti di forza dei vostri prodotti? Il punto di forza è che cerchiamo di abbinare tutti i problemi, cioè di risolvere un po' tutta la problematica, perché spesso succede che la persona ha problemi di salute e spesso non sa effettivamente qual è il problema. Quindi togliendo tutti gli allergeni e abbassando i carboidrati si risolvono molti problemi. Grazie a tutti.